Ciao, io sono Michele e insieme alla mia famiglia siamo il Frantoio Paparella. È un mestiere antico, una conoscenza, una tradizione che ci trasferiamo di padre in figlio da oltre quattro generazioni. Quest'anno appunto è il nostro 130esimo compleanno e abbiamo deciso di aprire le porte del nostro Frantoio e delle nostre aziende agricole a tutti voi. Voglio farvi vedere una cosa, venite con me. Queste sono le olive del nostro Oliveto. Il mio bisnonno ha iniziato a produrre il suo primo olio nel proprio Frantoio nel 1891. Beh, non c'era nemmeno l'elettricità a quel tempo. Oggi invece stiamo portando avanti una crescita sostenibile della nostra azienda, sia nel Frantoio che nei campi. Infatti abbiamo circa 100 ettari di Olivete, 15.000 pianti di olivi, ne piantiamo ogni anno circa 200, proprio per cautelare e custodire le cultivar autoctone del territorio. Nel Frantoio invece abbiamo aumentato quelle che sono le capacità produttive e migliorato l'estrazione. E tutte le caratteristiche dell'olio oggi vengono conservate e custodite all'interno del nostro olio extraverge d'oliva. Nelle nostre aziende agricole coltiviamo diverse varietà di olive. Questa in particolare è la coratina. Tipica del nord barese, è una cultiva autoctona che caratterizza la Puglia nel mondo. Questa tra un po' sarà anche matura. Da queste olive produciamo un olio extraverge d'oliva biologico davvero eccezionale, sincero e verace. La caratteristica? Bene, è piccantino. Conoscete il perché? Quest'oliva è un concentrato di polifenoli, che sono potentissimi antiossidanti e antinfiammatori, che fanno bene anche alla salute. Quindi gusto e salute in un unico prodotto. E sul sito www.l'olionuovo.it troverete, oltre che la monocultivar coratina biologica, anche il fruttato Evo Gold, che è un olio più equilibrato, più armonico, che unisce la coratina con le altre pregiate cultivar pugliesi della nostra azienda. In questi anni troppo spesso abbiamo sentito parlare di olio extraverge d'oliva adulterato, contraffatto o tagliato con oli non italiani o perfino non extravergini. Io oggi sono qui per metterci la faccia, per rassicurarvi, perché capisco benissimo che il consumatore ha perso fiducia nell'acquisto su siti internet o su scaffali di oli, perché molto spesso non sai effettivamente cosa acquista. Quello che vi voglio raccontare oggi invece è la nostra storia, la nostra autenticità. Tutte le nostre olive sono coltivate direttamente da noi e ce ne prendiamo cura quotidianamente, ogni giorno. E l'olio che portiamo sulle vostre tavole è il concentrato del saper fare, dell'amore e della cura, che ogni giorno riserviamo ai nostri olivi, alla nostra famiglia e ai nostri figli. Come nasce il nostro olio? Per ottenere un olio di alta qualità bisogna necessariamente eseguire delle prassi, delle procedure rigide e molto accurate. Infatti le olive giungono al nostro frantoio, le defogliamo, le laviamo, successivamente passano all'estrazione, un'estrazione a freddo. E attraverso delle tecnologie e dei macchinari davvero innovativi, oggi siamo in grado di preservare, conservare interamente tutte le caratteristiche organolettiche dell'olio, così da aggiungere il prodotto fresco, autentico e genuino direttamente alle vostre tavole. Da oggi potrai ordinare e acquistare l'olio nuovo comodamente da casa. Il tutto sarà veloce, facile e sicuro. Ti basterà semplicemente selezionare la varietà dell'olio che preferisci, tra il biologico monocultivo acoratina oppure l'evo gold, un fruttato più delicato. Successivamente dovrai solo selezionare il contenitore che preferisci. Ci teniamo molto all'innovazione ed è per questo che abbiamo introdotto all'interno del nostro catalogo prodotti la baking box, un contenitore davvero innovativo. Per saperne di più ti invitiamo a vedere il video qui in basso. La sicurezza è la chiave del nostro successo. Ci piace coccolare i nostri clienti. La sicurezza noi la realizziamo attraverso tre semplici elementi. Innanzitutto la qualità del prodotto. Il nostro olio extravergine d'oliva è di assoluta qualità. Viene attestato da numerosi premi internazionali. E se il gusto non dovesse piacerti puoi sempre decidere di cambiarlo oppure chiedere un rimborso al 100%. La spedizione avviene attraverso correri da avere in gamba che curano il prodotto dal ritiro fino alla consegna. Ma sono anche umani e qualora dovesse andare qualcosa storto siamo pronti a rimborsarti al 100%. I pagamenti sono sempre sicuri sia online che offline. Qualora decidi di acquistare direttamente dal nostro sito riceverai anche un coupon, un buono, un regalo. Mentre se dovessi scegliere il contrassegno puoi pagare direttamente ai nostri correnti più affidati. Ogni anno sono sempre più contento, orgoglioso e fiero di quello che fa la mia famiglia. Abbiamo anche un impegno sostenibile. Infatti preserviamo quelle che sono le cultivar autoctone del territorio. I clienti sono entusiasti, contenti, felici perché percepiscono quella che è la qualità del nostro prodotto e l'autenticità che nasce dalla terra e giunge fino alle vostre taule. Grazie per la visione!